buongiorno a tutti e a tutte siamo qui con car saifi special guest a wireless un vecchio redmi con android 10 come vedete il redmi è collegato ad android auto di questa audi senza fili nonostante quest'auto abbia android auto come accessorio ma lo abbia solo cablato come vedete questi due sono i device più famosi per fare questa operazione cioè per vendere android auto senza fili wireless io li ho provati entrambi le male lingue dicono che questo che car saifi abbia sostanzialmente copiato a wireless io non so se è vero però effettivamente l'app è molto simile l'hardware è molto simile il funzionamento è molto è molto simile io sinceramente non saprei scegliere fra i due sono entrambi buoni a while scusate car saifi ho appena fatto il l'aggiornamento del del firmware via ota e non ho notato grandi novità perché consigliare questi due device anziché la concorrenza come otto cast u2x o ad esempio anche carlin kit 4 perché questi due device faranno sì che il vostro smartphone venga riconosciuto dal sistema multimediale della vostra auto come un vero e proprio dispositivo android cosa che invece otto cast u2x e carlin kit non fanno perché questi invece fanno un piccolo trucco e fanno sì che il sistema multimediale veda un iphone questo non cambia tutto nella sostanza però ad esempio alcune funzioni come le copertine di spotify non sono visibili qua sul sul cruscotto invece con con a wireless e car saifi questo è possibile faccio questo video sostanzialmente per dirvi che car saifi è un prodotto che sto testando che è valido sto testando da molto tempo anche a wireless anche esso è è valido entrambi sono spediti dal dal loro sito si comprano e si si trovano nel sito non sono su amazon entrambi hanno gli aggiornamenti via otta quindi sostanzialmente buoni entrambi scegliete quello che vi pare tra i due sono da preferire a carlin kit 4 e a 8 cast u2x perché vedrete che la vostra auto avrà diciamo sostanzialmente più funzioni più funzionalità rispetto ai due che che ho detto se avete domande le potete fare nel box commenti ringrazio pasqui che mi ospita nel suo nel suo canale youtube e gli amici di di rebotec ciao a tutti buona giornata buona serata